Ciao a tutti, oggi vediamo un esercizio di fisica sul piano inclinato che è argomento di prima superiore. Un muratore tiene in equilibrio una carriola su un piano inclinato. Egli esercita una forza di 200 newton parallela al piano. Il piano inclinato è lungo 3 metri e alto 1,5. L'attrito fra le ruote della carriola e la superficie del piano è trascurabile. Quanto pesa la carriola? E questo è il primo punto. Dopodiché, se sulla carriola viene posto un sacco di cemento di 55 kg, quale forza deve esercitare il muratore per mantenere la carriola ferma? Allora, ho riportato i dati e il disegno. Quindi abbiamo il nostro muratore con la carriola, l'altezza del piano e la lunghezza del piano inclinato. La nostra incognita è il peso della carriola, quindi posso dire Fp, forza peso. E andiamo ora a vedere la soluzione. Allora, noi sappiamo che la forza esercitata dal muratore sarà ovviamente diretta verso l'alto del piano inclinato, perché di per sé la carriola tenderebbe a scivolare e a cadere verso la base del piano inclinato. Quindi questa è la nostra forza parallela. Ora, il testo ci dice che la carriola viene tenuta in equilibrio. Equilibrio implica che la sommatoria delle forze agenti sulla carriola sia uguale a zero. Se noi andiamo a stabilire un sistema di riferimento I e J, orientato rispetto al piano inclinato, noi abbiamo che la nostra carriola sarà soggetta a che forza? Allora avremo la forza peso verso il basso, quindi Fp, che è proprio quella che dobbiamo trovare. La cui potrà essere scomposta in forza parallela e forza perpendicolare. Ok, andiamo a spostare questo qui. Quindi forza perpendicolare, forza parallela. Come facciamo quindi a ottenere l'equilibrio? Otteniamo l'equilibrio perché abbiamo la reazione del piano, R la chiamiamo, e la forza dovuta alla forza esercitata dal muratore, che sarà esattamente forza parallela. Cosa significa? Che il nostro muratore eserciterà una forza F parallelo che sarà appunto uguale alla componente parallela della forza peso della carriola. Ok, quindi lungo la direzione J abbiamo che più R meno F parallelo, scusate F perpendicolare, è uguale a 0. Mentre lungo I abbiamo che la forza parallela del muratore, la scriviamo come F parallelo a M, lo vado ad aggiungere, più F parallelo a M meno F parallelo sarà uguale a 0. Ok, noi dobbiamo trovare la massa, il peso della carriola, cioè quindi la sua massa, perché poi facciamo M per G e troviamo il peso. Come facciamo? Semplicemente andiamo a guardare questa formula qui, ok? Noi quindi sappiamo che la forza parallelo muratore sarà uguale a F parallelo. Ok, molto semplice. Ora, come facciamo noi dalla componente parallela della forza peso andare a ricavare la forza peso complessiva della carriola? Noi sappiamo che il piano inclinato è inclinato di un angolo alfa e questo angolo alfa dovremmo già sapere dagli scorsi video che è uguale a questo angolo qui, ok? Tra componente perpendicolare della forza peso e la forza peso complessiva. Quindi, dobbiamo ricavare questo angolo. Come facciamo? Come abbiamo visto l'altra volta, noi possiamo scrivere una relazione come L per il seno di alfa ci darà che cosa? Ci darà H. Quindi possiamo ricavare alfa come l'arco seno di H su L. Ok. Ora, andiamo a scrivere queste relazioni in calcolatrice e vediamo che il risultato ci viene dato. Otteniamo 30 gradi, quindi il piano è inclinato di 30 gradi. Ora, noi possiamo scrivere come relazione che Fp, cioè la forza peso complessiva, per il seno di alfa ci dà la componente parallela della forza peso. E quindi noi vogliamo Fp e quindi Fp sarà dato da forza parallela fratto seno di alfa. E quindi 200 diviso il seno di 30 gradi ci dà 400 newton. Ok. Andiamo ora a vedere il secondo punto. Cioè, se sulla carriola viene posto un sacco di cemento di 55 kg, quale forza deve esercitare il muratore per mantenere la carriola ferma? Allora, la massa complessiva, a questo punto, quanto sarà? Allora, noi possiamo andare a ricavare la massa di prima. Ok, quindi la massa della carriola è data da forza peso fratto G. Perché? Perché la forza peso è uguale a M carriola per G. Ok, quindi la massa della carriola la andiamo a calcolare ed è 400 diviso 9.81, che è 40,8 kg. Scusate, non ho molto spazio per scrivere, quindi sto restringendo un po'. Quindi la nostra massa complessiva, massa totale, avremo 40,8 kg, che è la massa della carriola, MC, più 55 kg, che è la massa del sacco di cemento, MS, massa sacco. Quindi in totale avremo 95,8 kg. Ok, la nostra nuova forza peso sarà data da M tot per G. E quindi abbiamo 95,8 per 9,81, che ci dà 940 N. Ora, per ottenere la forza che deve esercitare il muratore, dobbiamo semplicemente andare a ritrovare quella che è F parallelo a M, che sarà ancora uguale ad F parallelo. E come facciamo a trovare la nuova F parallelo? Semplicemente forza peso per il seno di alfa. Otteniamo la forza parallelo. Cosa è cambiato rispetto a prima? Che ora Fp è maggiore, cioè la forza peso è maggiore, perché abbiamo un sacco di cemento in più. Quindi la nuova F parallelo sarà data da Fp, posso chiamarla Fp2, altrimenti si confonde con l'Fp del caso precedente, per il seno di 30 gradi. E andiamo a ottenere 470 N, che è esattamente il risultato che ci viene dato nella soluzione. Io spero di essere stato abbastanza chiaro, se è così lasciate un mi piace, se avete ancora qualche dubbio lasciatemi un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!